Nuove opportunità per accrescere la cultura imprenditoriale. Due strutture di confartigianato Vicenza, Cesar Formazione e Digital Innovation Hub, offrono corsi gratuiti online per dare un supporto anche pratico volto a fronteggiare la crisi e avere gli strumenti per ripartire con maggiore slancio. Sentiamo alla riguardo il presidente del Cesar, Carlo Pellegrino. In questo periodo di rara difficoltà, anche Cesar, l'ente di formazione di confartigianato Vicenza, a seguito delle disposizioni ministeriali in tema di distanziamento sociale, ha dovuto interrompere la propria attività di formazione in aula. Ragionando dai imprenditori, abbiamo comunque deciso di cogliere nuove opportunità rispetto alle difficoltà, seppur importante, che si è manifestata, adottando una strategia che ci porta ad essere comunque vicini alle aziende rispetto a quelli che sono i bisogni di formazione, seppur in modalità diversa. Grazie infatti alla collaborazione con il Digital Innovation Hub, che è il centro di trasferimento di competenze digitali di confartigianato a Vicenza, abbiamo adottato lo strumento del webinar per poter continuare la nostra attività di formazione. Abbiamo già sviluppato otto webinar che ci hanno permesso di venire a contatto, seppur virtualmente, con più di 800 fra imprenditori e loro collaboratori. I primi webinar di Cesar sono stati improntati su argomenti di assoluta attualità, quali ad esempio il decreto Cura Italia, oppure i rapporti con le banche in tempi di moratorie e di truffe che purtroppo si stanno sviluppando. Ma sono stati trattati anche temi di carattere generale e direi trasversale ad ogni azienda, quali ad esempio web marketing per quelle aziende che vogliono incentivare la promozione attraverso le attività in rete, oppure la gestione economica di impresa in momenti di crisi, al tempo in cui dobbiamo tutti rivedere i nostri budget e i nostri bilanci, ma anche pitch yourself per quelle aziende che hanno la necessità di imparare, di acquisire strumenti per presentare la propria azienda all'estero, sia per esigenze di esportazione oppure proprio di primo contatto. Inoltre, grazie anche all'interattività dello strumento webinar che dà la possibilità a chi partecipa di intervenire direttamente, interagire attraverso delle domande via chat, Cesare ha deciso di ampliare la propria offerta formativa inserendo un programma di webinar studiati e adattati alle specifiche esigenze dell'azienda, con il duplice scopo di mantenere e di rappresentare quel punto di riferimento per la formazione per le nostre aziende e allo stesso tempo per dare più valore al tempo che abbiamo a disposizione, evitando quindi inutili ed evitabili spostamenti.